Salve a tutti signori, ben ritrovati in questo nuovo video, un saluto a tutti da Max e volevo annunciarvi che nella città di Milano apre il primo negozio al mondo Jordan World of Flight, quindi capiamo che dal nome si tratta di Michael Jordan che è uno dei più grandi giocatori di basket della storia. Il negozio apre in via Torino esattamente e al suo interno ci sono le sneaker, tutte esclusive e anche un ampio spazio dedicato alle aste per i collezionisti, sì perché ci sono anche le sue maestà, Air Jordan. Il Jordan World of Flight di Milano, città inserita nella classifica delle mete preferite dai turisti stranieri, si estende per 360 metri quadrati dedicati al brand che Nike creò appositamente proprio per lui, per Michael Jordan. Una parete è coperta da 40 modelli di scarpe sportive, tutte anticipazioni dei modelli della prossima collezione primaverile realizzata in collaborazione con i Cereali Westes, altro marchio legato al cestista statunitense. In uno spazio in fondo al negozio, tra i borseri e divanetti in stile anni Ottanta, ci sono tutta una serie di fotografie iconiche dei momenti più significativi della carriera di Jordan. E non mancano vetrine di cimeli con le coppe, tutta roba espositiva. Un piccolo laboratorio a vista, poi, dotato di presse e stampanti a caldo, consente di far personalizzare ai clienti le proprie Jordan Jacket e le Air Jordan, le famose schiarpe. Diversi spazi nel negozio sono dedicati alle collaborazioni con vari artisti e designer e destinati a cambiare ciclicamente nel tempo. Nel negozio, da un ambiente metallico simile a un cavo, verranno distribuite anche le sneaker a tiratura limitata che sono acquistabili attraverso vere e proprie aste tra collezionisti su un'app dedicata. Quindi parleremo anche di cifre sbalorditive. Ma il marchio Jordan ha tutta una sua storia, perché infatti è nato nel 1984, venne creato dalla Nike appositamente per Michael Jordan, che al tempo, da poco entrato in NBA, era ancora alla ricerca di uno sponsor, insomma, un Michael Jordan alle prime armi. Dopo il ritiro dal mondo dello sport, Jordan ha voluto che altri campioni diventassero testimonial del suo brand, da Carmelo Anthony, a Rai Holland, passando per Russell Westbrook e Luca Doncic. Questo, signori, è tutto per quanto riguarda questa news. Ovviamente questo riguarderà i più curiosi che abitano nei dintorni di Milano, o a Milano stesso, ancora meglio. Io vi ringrazio per l'ascolto, noi ci sentiremo alla prossima notizia. sempre qua.